Chiusura di sedute in calo a Piazza Affari al termine di una giornata che si era aperta con il segno più. L'indice Futsmib segna un meno 0,47%, mentre l'Italia All Share cede lo 0,42%. In ribasso anche il Foodstar, che lascia sul terreno, lo 0,36%. Milano, come gli altri mercati, resta debole dopo alcuni dati macro sul settore manifatturiero. Intanto lo spread fra BTP e Bund e Tedeschi chiude a quota a 270 punti, con il rendimento del decennale al 2,82%. Nel 2018 le assunzioni riferite ai solidatori di lavoro privati sono state 7.424.000 e sono aumentate del 5,1% rispetto al 2017, è quanto emerge dallo strevatore sul precariato pubblicato oggi dall'Inps. In crescita risultano i contratti a tempo indeterminato, più 7,9%, i contratti a tempo determinato, più 4,5%, i contratti di apprendistato, più 12,1%, i contratti di lavoro stagionale, più 6,4% e i contratti di lavoro intermittente, più 7,9%. I contratti in somministrazione risultano pressoché stabili, più 0,5%. Nel 2018 si registra, rispetto al 2017, un importante incremento delle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, che risultano quasi raddoppiate. A gennaio l'Istat stima che l'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo per l'intera collettività all'ordo dei tabacchi aumenti dello 0,1% rispetto al mese precedente e dello 0,9% su base annua, da più 1,1% registrato nel mese precedente, confermando la stima preliminare. Il rallentamento dell'inflazione a gennaio è imputabile prevalentemente alla decelerazione dei prezzi dei beni energetici sia nella componente regolamentata, da più 10,7% in dicembre a più 7,9%, sia in quella non regolamentata, da più 2,6% a più 0,3%. Nel trimestre 2018 le convenzioni notarie di compravendita e le altre convenzioni relative a dati trasladativi a titolo oneroso per unità immobiliari diminuiscono dello 0,8% rispetto al trimestre precedente, meno 0,2% al settore abitativo e meno 10,9% all'economico. Lo rende noto all'Istat. Il settore abitativo segna variazioni congiunturali positive al centro più 0,9%, nel nord-est più 0,8% e nelle isole più 0,6%, negative nel nord-ovest meno 1,2% e al sud meno 1,1%. Le convenzioni notarie per mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzioni di ipoteca immobiliare, crescono dell'1,5% rispetto al trimestre precedente e del 7,0% su base annua. Credo che le utilities, per loro natura, debbano essere sostenibili. È un po' la nostra ragione d'essere. Noi ci occupiamo di servizi ai cittadini e alle imprese, di tutela dell'ambiente, della salute dei cittadini e della qualità della vita. Faccio fatica a pensare a un utility che non si preoccupi della sostenibilità. Il presidente di Utilità, Giovanni Valotti, commenta così i dati sull'investimento delle maggiori utility italiane, più 25,6% nel 2017 rispetto all'anno precedente, che vedono un aumento dell'attenzione alla sostenibilità ritenuta sempre più strategica nella creazione di valore, al pari della ricerca e dell'innovazione. Le 100 maggiori utility operanti in Italia nei settori dell'energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato e della raccolta dei rifiuti urbani rileva il rapporto Top Utility hanno generato nel 2017 un valore della produzione aggregato prossimo ai 112 miliardi di euro, pari al 6,5% del PIL italiano.